Era una pistola giocattolo, è entrato, se l'è portata a scuola per farsi bello. Nei pressi della scuola media della terraferma veneziana non si parla che di questo, del ragazzino di appena 12 anni entrato in classe con la pistola. E se della dirigenza scolastica ci si giustifica dicendo che si trattava di una pistola giocattolo, tuonano invece i genitori dei compagni di classe del ragazzino. E' inaccettabile, era una scacciacani con tanto di proietti e la salve, dicono, minacciando di trasferire i propri figli in altra struttura. Sicuramente la scuola dovrebbe prendere dei provvedimenti in questo senso, sia verso i genitori, perché insomma i bambini dovrebbero essere controllati. Siamo in un mondo pericoloso per i bambini, per chi cresce, la famiglia può essere sana finché si vuole ma non riesce a tenerla sotto sorveglianza. Perché devono vivere i loro tempi. Domani l'incontro tra i rappresentanti di classe e la dirigente scolastica con il dodicenne che per il momento non è stato sospeso. Si attende di sentire tutte le versioni del caso per prendere eventuali provvedimenti. Potrebbe un domani portarsi anche un'arma bianca tipo un coltello o un'altra roba e potrebbe far veramente danno ai compagni o alle altre persone che lo circondano. Quindi come intervenire a suo avviso? Ma io penso parlare con i genitori e anche parlare con il bambino e fargli capire che ha fatto un gesto che non doveva. È possibile che un genitore non si sia accorto dell'assenza di questa... Si accorgono, è che in casa loro sono faciloni, non guardano, non sono sorvegliati i bambini, però non vanno portati via dei genitori.